musica 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 bene ragazzi bentornati su cani da granas aspetta aspetta ma io aprivo bene ragazzi bentornati su cani da granas e oggi siamo qui ahahahahah ahahahahah ah aspetta ah oggi siamo qui stiamo qui con una nuova spina e da voi potete capire ah e perchè ogni taggio mesce la voce bene e cerchiamo appunto di fare cioè ogni gol ha una molletta in faccia questa mamma le va che mi sta da un fastidio di giro quindi cominciamo senza mollette esattamente cominciamo senza mollette sono casuali a posto rosa non dà sti cazzi basta rosa in bocca e figa mamma mia buona luisao luisao che cristo in giustizia c'è lì improbabili u samiris carità io lo samiris io non dormi rispetto a una settimana mai male battito perfetto ma ma incredibile u 1 2 se ne va male penso buco oddio ma c'è il culo di no che scazzo il tuo c'è il culo il tuo talisca 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 bello bello mi è piaciuto mi è piaciuto 2 o guarda ora lo trancio lo trancio santo dio lo trancio santo dio è piaciuto il culo guarda il culo guarda il culo è piaciuto il culo il culo il culo che ha fatto così il culo mamma mia non ti preoccupare ce l'ha già pronta allora facciamo il commento di così vai talisca talisca si trippla tutti ce la portiamo a casa a casa a casa la vada per lì ma non va lì ma incredibile dalla in mezzo oddio incredibile amici stitch dice dalla parte talisca no ancora talisca ancora talisca oddio che porca droga e rama neanche bellissima l'alto armonico per parisi papà il tap rata patricone urlano signifero parlare regolino dei top rocchip io un romano faccio un ahia! porca troia sta a fare un dolore della madonna adesso ah 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 ah! porca caccia! addio rischi! aia 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 cambia posizione vabbè tutto un cazzo no rimedi da lo so! no lo faccio a fumare so pure a me sta a fumare però lo tengo cioè ok diciamo che il conteggio potete capirlo dai male esatto oggio mì! coppia non è vero così vuole così luci si fa la leggera non porta no a non porta e credibile amici e credibile per il valore grande eliseu vuole fare tutto da solo non è vero perché vede lì ma non mi avanza io non riesco a parlare con sta cazzo io ho letto a faccia elisa la gioia di amore e' un po' bello ma troppo male per favore disattura per conto perfino tra qualsiasi un po' più respirato, ma non vuoi tappo più a boccavolo, mi ti tappo di un naso si si è vero un giudizio che io ne ho sento più carico bababia vai 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 lo posso ridere non faccio a fumare non ce la faccio più aia affanculo ora come sto io vado a dirlo posso ridere dai vandalo vandalo ahahah da rientra vai che bello dai Hey vadovolta se vuoi sono da romanzo bacò che cura o guarda di cura guarda no dalimo partiremo per te io vittorio al cd conti che tu guarda che io ero drogati chi cazzo due ragazze o si fa no so la tutta e' dato che ho detto più un po' io non 4 e c'è 4 guarda 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 per favore la cosa è che è vero con l'eserante o per te no ok ora il punto salvio lo vede allima lo vedete lì ma lo stoffo bruttissimo ma lì li prende palla lì li prende palla ma che cazzo era basta io l'ego fischia io ce l'ho tre è finita ce l'abbavo comunque per questo episodio è tutto ci siamo volete fatti male non pensavo che i voletti potrebbero fare così male però sta tutta la partita dei voletti la gente fa male quindi niente noi ci vediamo al prossimo video di ogni goal un qualcosa consigliateci un po' sotto quale sfida fare e mettete un mi piace se vi è piaciuto perché al 2000 mi piace faremo il prossimo ovviamente e condividete iscrivetevi al canale se non l'avete fatto bella ciao